Gianfranco è da 14 anni che è un'azienda di trasporto privata. Da sempre si occupa di trasportare attraverso sei tir del materiale per la fabbricazione di mobili in tutta Italia, da nord a sud, e l'80% del lavoro di consegna viene svolto per una nota azienda di Bergamo. Gli effetti del coronavirus ha rallentato drasticamente anche il settore del trasporto. Da più di 15 giorni, ci racconta, la sua attività si è fermata per la mancanza di richieste. Ora la ripresa è molto a rilento. Cinque dei suoi tir sono partiti da pochi giorni per il nord Italia, ma le normative attualmente in vigore impongono ai titolari di imprese di rispettare un protocollo nazionale per il contenimento del contagio che dispone l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale, tra cui anche i guanti idoni, che risultano per l'imprenditore difficili da reperire. Il capo magazziniere di questa ditta multinazionale di Bergamo mi ha detto, Franco guarda che questa volta ti carichiamo il camion, però domani se rimandi su altri camion, se non hanno i guanti protettivi noi non ti carichiamo. Sono andato in farmacie, sono andato in tanti negozi, quelli che vendono prodotti per casa, sono andato in quelli che vendono le vernici dove mi servo tutto, mi si mettono tutti a ridere, quindi da molto che non ci abbiamo più niente. Io adesso se non ho i guanti protettivi come devo fare? Perdo il lavoro, che non mi vogliono più Bergamo, come devo fare? Io dico a voi altri come devo fare? Se mi viene un controllo, un organo di polizia a controllarmi, cosa gli devo dire io? Cosa mi fanno? Una multa? Mi fanno chiudere? Cosa devo fare? E il lavoro, gli autisti, il lavoro che faccio su Bergamo da 30 anni lo devo perdere? Il rischio di sanzioni in vista di eventuali controlli, dice l'imprenditore, è molto alto e chiede più tutele da parte delle istituzioni. Ripartire, sì, fase 2, sì. Ripartire, ma ripartire in regola. Ci vogliono questi guanti. Perché non si trovano i guanti? Prima abbiamo lottato con le mascherine, adesso dobbiamo lottare con i guanti. Poi insomma, e hanno paura che se ritorna questo virus dobbiamo chiudere e dobbiamo chiudere tutti. Io penso che anche i politici qui di Fanno, il sindaco, gli assessori, tutti che si interessano che fanno, non c'è più i guanti per gli operai che devono lavorare. Altra questione invece riguarda la situazione lavorativa, ci racconta dei sei dipendenti, di cui tre in cassa integrazione non ancora arrivata e la problematica invece dei lavoratori attivi che spesso nelle trasferte non possono usufruire di bar e ristoranti per le diverse soste. Due hanno dei bambini piccoli, tutti devono pagare l'affitto tutto, ma come fanno con 900 mila euro al mese questi qui? Ma sto governo che spara sempre miliardi lì, miliardi là, miliardi su, ma dove sono questi soldi?